Siamo all'appuntamento fisso di tutti gli anni. Il Bright è un evento importante per le scuole superiori di San Giovanni. Valdarno, come dirigente dei licei Giovanni da San Giovanni e da quest'anno anche dirigente e reggente dell'ISIS Valdarno, siamo lieti di partecipare con i laboratori dei nostri studenti proprio sulle discipline STEM. Quindi scienza, tecnologia, conoscenza più in generale sono il cuore del Bright, ma sono il cuore delle nostre scuole, in particolare delle due scuole superiori di San Giovanni che proprio hanno competenze e specificità in ambito scientifico e tecnologico. I ragazzi hanno preparato degli stand con i loro professori e quindi condivideremo insieme in piazza il sapere. Di questo ringraziamo il Centro di Geotecnologie, l'Amministrazione Comunale e l'Associazione Calamita per questa bella opportunità. Sì, buongiorno, l'Istituto Comprensivo Marconi è il quinto anno che partecipa attivamente a questa manifestazione importantissima che ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti e le studentesse alla scienza e alla tecnologia. Noi come Istituto Comprensivo Marconi parteciperemo attivamente con la creazione di attività, con la partecipazione di attività all'interno di stand, i nostri docenti insieme agli studenti hanno preparato attività artistiche, scientifiche, ci sarà anche una partecipazione per quanto riguarda la robotica e poi ci saranno tutti gli altri compagni, studenti anche dei altri istituti scolastici che saranno coinvolti in queste azioni, in queste attività. Ringrazio il Centro di Geotecnologie per l'opportunità, per i ripetersi di questa manifestazione che ogni anno ha sempre più successo e l'amministrazione comunale.